fermo lì nardo questo fiore è mio spostati che maleducato non hai idea con chi hai a che fare cosa che c'è un fiore michelle oh no ma che mi succede queste scarpe sono così carine aspetta presa wow sto volando cosa penso di dover chiudere il negozio potrei fissare michelle tutto il giorno ma lei guarda solo video di mummie so come rendere felice la mia cotta cosa non ti è piaciuta la sorpresa finalmente è il mio turno giusto sono invisibile posso passare davanti alla cassa stop i fantasmi non sono ammessi ti vedo non è giusto beccato bello vincent aiutami a scegliere una camicia oh michelle è laggiù andiamo vincent passa questi fiori a michelle capito vai un cane questo bocchè è per me che carino un cane che consegna fiori chi è il tuo padrone che esame difficile michelle ha chiaramente bisogno di aiuto ragazzo invisibile il mio consiglio copia le risposte dal nerd so tutto michelle fidati di me cosa la mia penna conosce le risposte giuste wow grazie subconscio bel lavoro justin cosa sei bellissima grazie penna anche tu sei bella consegnate i fogli oh grazie per il complimento michelle è così elegante quando beve il caffè ti sto aspettando ciao martin michelle sei ancora più bella dal vivo e tu sembri ancora più grande le mie budella penso che tu debba metterti a dieta per favore aiutami sto per essere schiacciato questo è per te andiamo michelle l'esame inizia alle 9 del mattino preparatevi oh no michelle è in ritardo devo fermare il tempo altri 10 minuti qualche ora sarebbe ancora meglio cosa? quell'orologio è rotto prof zitto cervellone o questa sarà la tua ultima ora che ora è? cosa? anthony smettila di borbottare preparati per il test mi dispiace di essere in ritardo michelle sei in perfetto orario ok iniziate pure michelle solleva il bilanciere forza stai andando bene altri 25 kg su ogni braccio così diventi ancora più forte vai oh è leggero coach guardi allora puoi gestire altri 25 kg cosa? non sono d'accordo ah non era nemmeno difficile parla per te michelle sto morendo bel lavoro michelle passiamo alla prossima macchina eccola la mia passione oscura ecco per chi ha una cocktail nerd andiamo a farti bello che succede? niente più occhiali e cambia questo taglio di capelli un po' di diodorante non ha mai fatto male a nessuno un bouquet più grande vai romeo questo è per te mia regina wow grazie vuoi uscire? nessuno vede Justin nemmeno le porte automatiche ai aspetta posso andare veloce? no non posso michelle sei meglio dei pop corn fantastico alle cuffie che fortuna soldi più soldi cosa? oh ti pentirai di essere venuto qui il ladro polizia ho qui un oggetto non identificato signora ha catturato un ladro seriale ecco la sua roba grazie per averci aiutato ho bisogno di soldi per il cibo ecco amico oh soldi dal cielo grazie a dio ehi cos'ha questa macchia? che sia maledetta? non riesco a prenderla ok devo fare un serio attacco chimico bene grazie ma me ne vado ah bel prodotto devo prenderne di più sono bloccato aiuto michelle mi hai salvato che sogno ma giusto michelle può salvarmi ho bisogno del suo bacio cosa? seguimi andiamo michelle guarda questa lavagna ti dice qualcosa? cosa? credo di ricordare quel cane nel negozio il mio allenamento una mumbia quel ladro le risposte del test Justin? eri tu? andiamo baciala wow wow Justin sono di nuovo me stesso ti amo michelle ti è piaciuta la nostra storia invisibile? scrivi qui sotto se ti piacerebbe che un uomo invisibile si innamorasse di te e ragazzi iscrivetevi al canale mettete mi piace al video e cliccate sulla campanella non perdete nessun nuovo video esilarante di woohoo